Buongiorno, benvenuti a Millennium Live, lo spazio in diretta Facebook, in diretta YouTube e anche sul nostro sito ilfattoquotidiano.it dove presentiamo i contenuti del mensile FQ Millennium diretto da Peter Gomez. Siamo in edicola con il numero di marzo, la copertina è dedicata alla sanità, alle due facce della sanità, camici bianchi e cappucci neri, perché parliamo della latitanza di Matteo Messina Denaro finita nei mesi scorsi ma protetta tra l'altro anche da diversi medici massoni in una zona d'alta densità di logge massoniche, cioè il Trapanese. Poi però parliamo anche dei problemi della sanità per i cittadini, per noi che la viviamo tutti i giorni. Per esempio abbiamo uno straordinario resoconto fatto con degli audio di WhatsApp di una dottoressa che lavora in un pronto soccorso del Nord Italia e racconta giorno per giorno la crisi di questi presidi fondamentali per la nostra salute, le lunghe attese, la difficoltà di provvedere celermente agli esami, alle verifiche che servono a una persona che si rivolge al servizio di emergenza. Però di tutto questo abbiamo già parlato nelle scorse puntate di Millennium Live e invece oggi io sono molto contento, sono particolarmente contento di avere con noi Natalino Balasso, comico, attore, che è intervistato in questo numero di FQ Millennium, una lunga intervista, quelle lunghe interviste che facciamo noi di sei pagine e più, dal nostro bravissimo Davide Turrini che cura molte delle interviste della parte di Millennium, che non fa solo cose serie sui massoni, mafiosi, eccetera, anzi fa anche cose serie sullo spettacolo. E' sul, ecco, questa è la formula. Volevi dire anche cagate, ecco. Ma il confine, ecco, diciamo che il confine tra le cose è sempre più labile per cui a volte ci sono più cagate quando ci si occupa per esempio di politica o di criminalità, eccetera. Ma va bene, io faccio subito, perché so che chi ci segue vuole subito sentire Natalino Balasso, io faccio la prima domanda partendo proprio dal nostro titolo e poi lascio la palla al collega Davide Turrini. Noi abbiamo titolato Sono un pacifista che ama la rissa e mi infastidisco in strada se mi fermano ricordando le vecchie battute, perché dico subito che questa è un'intervista tra spettacolo e politica, perché Natalino Balasso porta in giro i suoi spettacoli e ne parlerà anche con Davide, però non disdegna ingaggiare qualche, come dire, scontro polemico, per esempio sui social, anche con importanti personaggi politici. Allora, come definiamo un pacifista che però si lascia andare anche alla rissa? Perché è la domanda che fai a me? Sì. Guarda, io diciamo l'etichetta di comico, di attore mi sta piuttosto stretta, mi definirei piuttosto un agitatore, ecco. Un po' come hai presente quando fanno gli esperimenti chimici dove mettono tutte le particelle e poi agitano, ecco, quella roba lì. Dopodiché il discorso, io sono pacifista ovviamente perché sono contro la violenza individuale ed organizzata, per quanto poi qualcuno invece mi rinfaccia sempre di essere, insomma, piuttosto aggressivo con le parole. Anche quella è una forma di aggressione probabilmente, forse perché da qualche parte dobbiamo sfogarci. Però devo dire che ci sono delle cose che proprio non riesco a sopportare, è una cosa di pelle, ma soprattutto quando vedo usare terminologia sproposito, e questo perché la gente di solito ama riferire le cose che ha letto a brandelli senza occuparsi dei significati delle parole che dice. E quindi queste cose un po' mi infastidiscono, è un vezzo sempre più anche giornalistico e quindi anche sul fatto quotidiano ogni tanto me la prendo con qualcuno, però devo dire che secondo me il miglior giornalista oggi, almeno in Europa, credo sia Davide Turrini. Lo prendiamo anche noi, infatti affidiamo sempre a lui le interviste più scabrose, forse più serie. Ma no, ha ragione Natalino, ma infatti no, noi tra l'altro abbiamo fatto una bellissima intervista in un luogo spartano, ti ricordi Natalino? Siamo stati in un camerino di teatro, ma in un camerino a Reggio Emilia, dove tu stavi per andare a recitare il ruzzante, un tuo ruzzante, il tuo ruzzante, che sta avendo tra l'altro un bel successo. Tra l'altro ha le ultime tre repliche a Ferrara, da oggi a domenica, salutiamo il pubblico, però stiamo già parlando per l'anno prossimo, perché è uno spettacolo che ha, come dire, accoglienze trionfali. Trionfali, trionfali. No, ecco, la cosa interessante è stata questa. Scusa, posso approfittare per salutare i miei due attori preferiti che sono con me nello spettacolo, sono Andrea Collavino e Marta Cortellazzo, Vielle, sapete che vi amo, ecco. Ecco, no, loro lo sanno, ma ti amano molto. Tanto non guardano la diretta, è tutto un proforma, perché non mi cagano. Comunque, no, io dicevo, questo camerino spartano era bellissimo, non ti ricordi Natalino, perché non c'era niente dentro e tu lo riempi, è un po' come il teatro, il teatro è vuoto e tu lo riempi, ti ci butti dentro e gli dai vita. Sì, sì, un po' perché secondo me per riempire il teatro bastano gli attori, cioè bastano le relazioni tra gli attori e le parole. Il regista, io ho sempre detto che è superfluo e per questo i registi mi odiano, ma mi spiace per loro, ma è così, è come il calcio. Certo ci sono i grandi allenatori, ma se il calciatore non c'ha voglia, la partita non gira. Ah, vedi, questo è già un concetto, come dire, tecnico, tattico, molto particolare. Ascolta, mi viene in mente una cosa di cui non abbiamo parlato, però esce a breve il ritorno di Casanova, di Salvatore, quindi qualche regista comunque ti mette il cappello in testa, perché... No, no, certo, è cinema, no, certo che è cinema, però dico comunque questa... Nel cinema il regista è tutto. Per forza, per forza. Ma cosa fa in questo film, che non lo sappiamo? In questo film, io, Inter... Perché sai, il film è in pratica, sono due film paralleli, perché è la storia di un regista, che è Tony Servillo, che sta girando un film sul ritorno di Casanova, il cui protagonista lo farà Fabrizio Bentivoglio. e quindi vedremo anche una parte in costume con, diciamo, proprio col film su Ritorno di Casanova. Nella parte moderna, diciamo, cioè il regista che sta realizzando questo film, io, la mia parte è quella del montatore del film, che quindi è amico del regista e quindi, insomma, una sorta di voce, di grillo parlante, una sorta di voce... più di Sancio Panza, devo dire, che di grillo parlante, però è una sorta di voce amica e consigliera di questo regista che si trova in un momento di, insomma... Di difficoltà. No, di disorientamento. Ma, tra l'altro, ecco, il ruolo del montatore, e l'abbiamo anche scritto, è ritorna, no? Cioè, ritorna un po' alla lurido film. E questo è... sono degli incroci storici straordinari, insomma. Sì, non è esattamente come quello della lurido film, però... Però, insomma, comunque il ruolo è lo stesso, insomma. Il ruolo è lo stesso, un po' più attivo, quello era un po' più passivo ed era un attore. Tu rinni, non sei informato, quello era un attore, un attore, diciamo, di che genere. Ma è stato un montatore. Ma io te l'ho buttata sul montatore proprio per questo. No, perché quello era un attore che, appunto, aveva passività e attività, insomma, montava, smontava. Noi adesso ridiamo, ma siccome siamo al fatto quotidiano, ovviamente nessuno a casa ha capito che era una grande metafora sul mondo del lavoro, su lui che diceva bisogna inchinarsi all'esigenza della produzione, e purtroppo, siccome nessuno ha capito un cazzo, sono venuto via dalla televisione e mi sembrava giusto, insomma, perché la gente in tv non capisce un cazzo. Non capisce un cazzo. Ecco, scusa Davide, ti interrompo perché questo mi sembra un tema centrale della vostra intervista, il tuo rapporto, Natalino, con il passato televisivo che ovviamente porta al successo, ma... Ma... Beh, quando un attore è giovane cerca sempre di accedere a delle platee grandi per farsi vedere, farsi conoscere. Ovviamente io, per mia fortuna, ho avuto l'accesso a queste platee che non ero più giovane, cioè avevo già 40 anni e quindi non ero stupido, insomma. E avevo la percezione precisa che quando il pubblico televisivo, che è distrattissimo, non parliamo di quello di YouTube, perché adesso non so se noi siamo su YouTube, immagino che la gente seguirà fino alla fine, però vi devo annunciare che su YouTube la media dell'attenzione di ascolto è 30 secondi, dopodiché uno va a vedere altro. Ed è un pubblico che non mi interessa. Come non mi interessa il pubblico televisivo? Perché in realtà, quando in televisione sei visto sotto un profilo e fai ascolti sotto quel profilo, subito l'apparato della televisione cerca di presentarti solo sotto quel profilo, perché è quello che dà il successo, ovviamente. Però per l'attore è una cosa piccola, cioè ti viene chiesto di fare i due minuti che hanno avuto successo di replicarli all'infinito. Ma io questo meccanismo lo conoscevo già per mia fortuna, avevo 40 anni, per cui dopo un anno e mezzo sono venuto via. Che la gente ancora si ricordi che abbia fatto Zelig dipende solo dal fatto che io l'ho fatto in maniera perfetta, e questa è la verità. Cioè la gente mi dice, ma tu a Zelig... Ragazzi, io quando sono venuto via alla Zelig era 21 anni fa. 21 anni fa. Però ecco, nell'intervista raccontiamo anche che quando ti fermano per strada e ti fanno l'imitazione, l'accento professional, ti girano anche un po' perché insomma è solo quella cosa lì. Cioè Balasso è anche tutto il resto. Sì, ma non è che mi girano per un mio fatto personale. Mi gira che ci sia gente che ragiona così, ma purtroppo siamo la maggior parte che ragiona così. Sai che hai presente Io e Enni di Woody Allen. A un certo punto lui, perché lui è un personaggio che scrive per la televisione, ma è anche apparso in televisione, quindi la sua faccia è un po' conosciuta. Questo è il suo ruolo. E a un certo punto, mentre sta aspettando lei al cinema, viene avvicinato da due. Due che dicono, guarda chi c'è, vieni qua, vieni qua, guarda chi c'è, eccetera. Ebbene, nel film questi due hanno l'accento italiano. E credo che la dica lunga, insomma, sul nostro rapporto col divo, che è un rapporto di sudditanza, di soggezione. Ora io posso capire le questioni, come dire, di carattere personale. Cioè ci sono persone che mi avvicinano, soprattutto ragazze, perché come vedete sono molto bello, e mi avvicinano e dicono, ma io sto tremando perché sono vicino. Ora questo tipo di cosa lo posso concepire. Esistono le persone timide, vedono una persona famosa e danno anche una cosa fisica. Ma, e questa è una questione di timidezza, ma invece la questione è che tu non sai chi cazzo è quello con cui stai parlando. È solo perché hai visto la faccia da qualche parte. È come, non so, ci sono molti racconti su questo, anche di amici, colleghi comici, non so, che vengono avvicinati e dicono, eh, ma guarda, ma chi sei? Cioè perché non sa neanche chi sei, capito? Hanno visto la faccia. È ovvio che tutto questo, quando uno appare continuamente in televisione, poi viene votato. Perché ragioniamo così? Cioè non c'è assolutamente un ragionamento dietro alle nostre scelte. Certo. Però comunque... Alle aberrazioni, scusa, dei selfie, ai funerali di cui abbiamo letto, ai funerali di persone famose. Di cui abbiamo letto... Quella è la logica conseguenza. Anche se da qualche parte leggevo, sì, certo che Maria De Filippi è veramente una signora che comunque ha accettato... No, si può dire anche di no. Esatto. Ai fan si può dire anche di no. Senti, è interessante perché ci sono due aspetti rispetto alla questione della televisione che hai sollevato e che raccontiamo nell'intervista. Allora, uno è che tu comunque a un certo punto hai detto, mi voglio fermare, non posso ripetere all'infinito questa gag e hai proposto delle tue cose, no? E questo è un tema e adesso ne parliamo. E poi il secondo tema, così ci prepariamo, è la questione della pubblicità. Perché mi è piaciuto molto quando tu hai citato, se non ricordo male, George Carlin, no? No, Bill X. Bill X, scusami. Bill X e facciamo l'esempio dell'aranciata, così ci racconti anche questo. Allora, domanda numero uno, tu hai detto voglio uscire dal personaggio che ho fatto a Zelig e hai proposto delle cose. Cosa è successo, Natalino? Beh, è successo, ti cito solo una cosa, ma la cito a proposito perché io ho parlato con molte persone, poi ho fatto anche delle cose sulla 7, ho fatto alcune cose, anche su Italia 1, tutte cose che cercavano di tenere nascoste. Italia 1 mi mandavano in onda, ma comunque già a Zelig mi mandavano in onda dopo mezzanotte. La verità è che la gente alla fine se becca qualcosa che gli piace lo becca dovunque. Però, ve lo dico perché io ho parlato in un certo periodo per fare una cosa su Rai 3 con Ruffini, che comunque questo tipo di direttori, ne sento sempre parlare come direttori illuminati, intelligenti. Io ti dico soltanto che io avevo proposto un progetto e c'era dentro Laura Curino, c'era dentro Michele Di Mauro, c'erano dentro attori che per me bravissimi, che io conoscevo bene, sui quali avrei messo la mano sul fuoco e poi mi sarebbe piaciuto che ci fosse la Mandracchia, che ci fosse Maria Pagliari. Insomma, io avevo fatto una serie di nomi e la risposta che mi viene data, ma non da un cazzo di capostruttura qualsiasi, ma dal direttore Ruffini. Ma se noi ci mettiamo la Canalis, per esempio, allora tu capisci che il ragionamento è questo, se il ragionamento è la Mandracchia e la Canalis vuol dire che non sappiamo di cosa stiamo parlando, non sappiamo di cosa stiamo parlando. E allora, ovviamente dopo, quando vai a fare questi progetti, si fanno sempre delle mediazioni, no? Delle mediazioni, perché l'idea è quella che se tu non metti le persone famose, la gente non guarda la trasmissione, ma è anche vero che se tu non fai fare la trasmissione a quelli bravi, quelli bravi non diventeranno mai famosi, questa è la verità. Tant'è che anche Michele Di Mauro sta diventando conosciuto adesso, ma questo progetto, ti sto parlando di 15 anni fa, quindi diciamo, il modo di ragionare della televisione è quello, quindi non c'è modo di ragionare con la televisione. Io non credo che per dirigere in televisione sia necessario essere stupidi, però aiuta. Io credo che sicuramente bisogna, se non si è stupidi, fare finta di esserlo, perché comunque la televisione ha bisogno di gente che dica di sì, e lo dico solo per non dire yes man che a Turrini piacerebbe. Vi interrompo, scusa Davide, solo un attimo, perché innanzitutto stiamo chiedendo a chi ci segue, mandate le vostre domande per Natalino Balazzo nei commenti, leggeremo in diretta. Adesso più che domande piovono, devo dire, un sacco di complimenti, di fan, sei un grande, fenomenale. Non te li ignoro, insomma, dimmi solo le critiche. No, critiche ancora non ne vedo, ma Mar Val, scusate, sono ovviamente nickname, dice da YouTube vorrei la depenalizzazione della satira italiana. C'è anche un po' un tema che non si può dire tutto, si dice meno di un tempo, non si può dire tutto. Esiste la satira italiana? No, lo chiediamo a te che esiste? Esiste ancora? Un tempo forse esisteva, non so. Guarda, vorrei citare quella cosa che diceva Gaber a proposito dei giornalisti, mi dispiace tirare sempre in ballo. Tirali, tirali. Quando Gaber dice che volete la libertà di fotografare le immagini dei presidenti piangenti, delle mamme, dice avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fa. Allora il problema è questo, insomma, la libertà di pensare ancora c'è, ma credo che non sappiamo cosa pensare. E la depenalizzazione, non so se si riferisce al politically correct, ma ragazzi, anche il politically incorrect è piuttosto triste, secondo me, insomma. Quindi è un po' così, ecco, cioè, poi le parole, insomma, sono solo parole, però non c'è in Italia un modo di educare la gente a guardare l'arte. E questo è il problema. Se noi non capiamo quando un'opera artistica rappresenta una critica alla società e ha diritto di critica alla società, se non capiamo questo è ovvio che dopo ci scontriamo sulla parola, ma quello ha detto Negro, ma quell'altro ha detto Froccio, eccetera. È ovvio. Beh, vedi, vedi, Natalino. Si potrebbe continuare, perché vedo che ci sono altre... In Italia non è più lecita la satira. Non è più lecita la satira, non è città. Non è più lecita la satira. Quando la satira è fatta in televisione, ma per favore, quando la satira è fatta in televisione, quando dopo che hai parlato tu c'è un formaggino, c'è uno che ti invita a sottoscrivere un'assicurazione, c'è un comico che prima ha fatto la satira e dopo ti dice di fare un contratto telefonico. Per favore, non diciamo cazzate. Non esiste satira in Italia. Non è mai esistita. Forse nel 2000 avanti Cristo qualcuno, prima ancora dei classici greci, faceva satira, ma dopo basta. E poi la satira, diciamolo pure, anticamente era un banchetto dove la gente mangiava, dove si poteva mangiare. Quella è la satira, per me. Ecco, Mario, vedi che ci sono varie domande. Io colgo l'occasione, però, visto che Natalino ha citato il formaggino, perché c'è un discorso importante sulla pubblicità. Poi li riprendiamo, Mario, questi messaggi. Non so se vedi, ci sono delle cose interessanti. No, tu parlavi di formaggino perché un altro degli aspetti, secondo me, estremamente originali, proprio di ribellione sociale del balasso, è quello che lui si è fatto il suo canale su YouTube, si è creato i suoi follower, insomma il suo seguito che è molto nutrito anche quantitativamente e non accetta pubblicità di alcun genere, di alcun tipo. Te ne hanno invece proposte tante, vero Natalino? Te le proponevano da Zelig in avanti, c'è la famosa aranciata, eccetera. Però tu hai sempre rifiutato, quindi il tuo è un esempio, possiamo dire, virtuoso, no? Cioè rispetto a questa idea di un consumo, di un paddor sgionfio dalla mattina alla sera. Guarda, io non so perché già anche, vedi che il termine virtuoso comincia a diventare... Non ti piace. Non mi piace perché io detesto le virtù. Però a parte questo, mi sembra logico che se tu fai un discorso di critica alla società, di come la società si stia di nuovo analfabetizzando, di come alla gente interessano le cazzate, basta vedere i dibattiti che reggono sul nulla, è bastato sentire durante il Covid i dialoghi fra pro-vax e no-vax per capire quanta povertà culturale ci sia. Questo è il problema. Il problema non sono i vaccini, è proprio che un vaccino ne ha testa, ci sarebbe bisogno. Però in verità io credo che il commercio oggi si fa forte di questo luogo comune che ha preso piede e al quale tutti aderiamo. E c'è sul fatto che bisogna produrre e consumare, produrre e consumare. Che è una cosa che dico anche in Bolz, questa serie che sto facendo su Patreon. E te lo dico perché io su YouTube non faccio più niente perché appunto la gente guarda 30 secondi e non me ne prega un cazzo se tu guardi le figure, insomma, e poi commenti perché è questo il bello. Uno legge una cosa e poi commenta, capisci? E sappiamo qualcosa anche noi giornalisti, effettivamente. Quindi è indispensabile la propria opinione che è sicuramente fondamentale per il mondo. E ora, detto questo, secondo me, perché io la pubblicità, volto sempre il canale, non riesco a vedere la pubblicità. Se noi guardiamo i grafici che quando ero in televisione c'erano la mattina, guardavano gli ascolti per capire se magari uno scoreggiava in quel punto, la gente, c'era il picco e allora bisogna scoreggiare di nuovo. E allora tu vedevi, il grafico era, adesso non riesco a fare con la... Però il grafico, diciamo, aveva un andamento alzarenante così e poi quando arrivava la pubblicità, avevi il cosiddetto nero pubblicità, avevi un calo che andava giù. E dopo qualche minuto tornava su. Cioè, chi paga quel programma è quello che la gente non vuole vedere. E allora l'idea che il commercio sia una sorta di cilicio che dobbiamo portare perché l'economia deve andare avanti secondo me è la stessa cosa dei selfie ai funerali. Cioè, non ha senso che tu voglia fare l'artista e poi fai le pubblicità. Quella non è un lavoro artistico. Quello, cioè, se uno fa l'artista e poi va a fare le pizze, secondo me è la stessa cosa. Gli attori, gli artisti, devono capire sta cosa. Non è dequalificante che un attore faccia il postino o faccia il pizzaiolo. È dequalificante che faccia la pubblicità. Anche se la pubblicità gli dà molti più soldi che a fare il postino. E allora, se noi non capiamo quello, e dopo cominciamo a mescolare le cose, e cioè, mi ricordo una volta un'intervista che fecero a Andy... Porca Eva, Andy... Ma Dio... Sono vecchio, sono ufficialmente vecchio. Andy Luotto. Andy dei Bruvertigo. Noi, il bravissimo armonicista che ha fatto il film con Tinto Brass, che tu hai visto tutti. Io tutti, però non ascoltavo l'armonica. Non c'è. Non la suonava, non la suonava. Insomma, lui è straniero, una volta l'hanno intervistato, e gli hanno detto, beh, ma tu adesso stai lavorando, stai facendo... E lui ha risposto, ma ingenuamente, e in maniera veramente, come dire, gli ho voluto bene in quel momento, perché per lui, ed è quello che pensano tanti, il lavoro è questo. Quindi vi diceva, sì, adesso ho fatto due film e una pubblicità delle patatine fritte. Ed è tutto sullo stesso piano, capisci? E anche per la gente è tutto sullo stesso piano. Io ti dico solo una cosa, Turrini, citami tre canzoni di Fedez. Fedez è un cantante. Citami tre canzoni di Fedez, porca... E allora, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando di facce che appaiono in uno schermo chiuso. Ed è una cosa... Io mi ritiro, preferisco ritirarmi. È una domanda che utilizzeremo, Nattalino. Questa è la domanda delle cento pistole, che faceva Sandro Paternostro. Andy J. Forest, per la cronaca. J. Forest, è bravissimo suonare l'armonica. Siccome era un bel ragazzo, Tinto Brasso lo ha usato per qualche suo film, insomma. Senti, Tinto che tra l'altro compie 90 anni oggi... No, ha compiuto 90 anni l'altro giorno, insomma, in questi giorni qua. Grandissimo Tinto. Che regista, che regista. No, ogni tanto bisogna dirlo. Anche lui, tra l'altro, è uno che, insomma, si è preso una sua strada e anche un po' invecchiando. Però, insomma, non ha mai venduto quella parte lì, no? Non ha mai venduto il sedere. Beh, lui, diciamo, aveva la grande forza della fregna che chiaramente in tutto il mondo tira sempre. Ecco, ecco. Senti, no, allora, Mario, leggiamoci, sono sbizzarriti, no, a commentare? Sì, possiamo fare, tra l'altro, ci stiamo avviando verso la conclusione. C'è Natalino, peraltro, tuo omonimo, Marte Mucci. Possibile che in Italia si debba aspettare che i comici facciano una vera informazione? Qui forse c'è qualche riferimento anche alla politica. Per favore, però... Ragazzi, cioè, no, ma veramente... Ma secondo voi i comici devono fare informazione? Ma cercate di fare credito ai giornali e cercate di scegliere giornali che un po' di informazione la fanno, perché se no, se noi pensiamo che quello che dice il comico sia informazione, siamo messi male, ecco. Eh, forse però si sente una lacuna. Ne leggo solo un altro paio. Simoro Vivente dice che fa alcuni nomi di... credo comici, insomma, che non sottovaluterebbe. Giorgio Montanini, Filippo Giardina, la stand-up comedy in generale, di cui tra l'altro... Filippo Giardina è il nostro collega al fatto. No, scherzo. Quello è Fabrizio. La definizione che io vi do di stand-up comedy è quando un comico non fa ridere fa la stand-up comedy. Ah, addirittura. No, ovviamente una boutade non è così, ci sono... Montanini lo trovo molto bravo, ma sono anche bravi, non tutti, qualcuno è proprio scarso, però la verità è che come io mi scagliavo contro questo luogo comune che la comicità era il cabaret. All'improvviso, negli anni 80-90, fai il cabaret. No, non faccio cabaret, non faccio cabaret, faccio altre cose, non vado nei locali di cabaret. Cioè, quando avevo smesso di andarci, perché anch'io per pagare le bollette ci sono andato. Ora, la verità è che adesso, all'improvviso, uno è in piedi col microfono ed è stand-up comedy, cosa che in America si faceva negli anni 70. Oh, ci siamo arrivati 50 anni dopo, è già qualcosa, però, è come dire, è un'etichetta di cui ci si fa forti quando non ci si sente forti. Cioè, se tu sei un artista che parla della società, va bene, sei un artista che parla della società e poi quanto sei profondo in questo, non lo so, non tutti lo sono e non è facile esserlo. Quindi, direi, a chi vuole fare la critica della società facendo comicità, prima leggete, leggete tanto, leggete, non smettete di incuriosirvi e non limitatevi a dire la vostra semplice opinione, come dire, corollata di battute e poi, facendovi forte di un'etichetta che è stand-up comedy, andate in giro a fare gli spettacoli e magari aspirate ad andare in televisione immediatamente perché qualcuno venda i contratti telefonici. Senti, la ultima domanda che poi ne faccio una io e ci avviamo alla conclusione sono le 12 e mezzo. No, stiamo proprio concludendo, io vorrei rilanciare, visto che... andiamo a concludere, ma stiamo così bene, ma andiamo avanti, io penso le 4 per Ferrara. Andremo tranquillamente avanti. Andiamo avanti, rifacciamo, riduplichiamo, prossimamente ti richiami, fino alle 16. Senti, no, Natalino, l'hai citato prima, Boles, no? È scritto proprio come lo diciamo, B-O-L-S, quindi sono balle ma sono anche Boles, ecco l'O, e tu adesso proprio dicevi siate curiosi, informatevi, eccetera, prima di parlare. Ecco, prima di fare Boles, che ci spieghi che cos'è, perché Boles è bellissimo e ci fa sbellicare. Dimmi cos'è Boles, dimmi cos'è Boles. Ti dico cos'è Boles anche se ti ho sentito andare a scatti, ma non è la connessione, sei proprio tu che vai a scatti. Sono io, sono io, rappo. Beh, guarda, Boles, Boles è una serie di queste cose autoprodotte, autofatte che io metto su Patreon, sul mio canale, in abbonamento, perché appunto su YouTube non faccio più niente, che parla dell'economia senza nessuna cognizione di causa, esattamente come fanno gli economisti. Cioè, la verità è che un economista può parlare dell'economia, ma non può fare previsioni. Invece io continuo a vedere le previsioni, ma come fai? Non si riesce neanche a fare la previsione del tempo. Figurati se riesci a fare la previsione dell'economia. stai raccontando di essere uno sciamano, non è possibile. Ora, tutto grottesco, come faccio io, supportato dalla meravigliosa Marta Cortelazzo-Vielle che mi aiuta sempre in queste produzioni, nel senso che lei fa tutti i personaggi femminili, io faccio tutti i personaggi maschili, ed è insomma una serie, credo che siamo alla terza, al quarto episodio che è uscito, avrà una decina di episodi, credo che andrà avanti perché la gente è molto incuriosita, qualcuno addirittura dice comincio a capire qualcosa e ti assicuro se capisci niente, niente. Non è vero. Mario. Sì, allora, prima di andare alla conclusione sono costretto anch'io a fare un po' di pubblicità, spero che Balasso mi perdonerà solo per dire che questi e tanti altri sono i temi che giochiamo anche in modo distonante di approfondire su FQ Millennium per cui mi tocca anche per input aziendale ricordarvi che FQ Millennium il mensile diretto a Peter Gomez lo trovate in edicola tutti i mesi, potete abbonarvi al formato cartaceo se siete ancora affezionati a questa forma se no ovviamente c'è il formato digitale e poi soprattutto seguite queste dirette sui nostri canali YouTube, Facebook e sul sito del Fatto Quotidiano punto id io vorrei dare una circolarità a questa diretta perché siamo partiti dicendo che Natalino Balasso ama definirsi un agitatore ha fatto l'esempio del chimico con le varie sostanze in provetta a me Davide Torini è anche bravo a scavare poi nelle biografie negli aneddoti dei personaggi che intervista a me che tra l'altro sono stato obiettore di coscienza anche se in tempi più tranquilli credo rispetto ai tuoi ha colpito molto un aneddoto tu dici agitatore sono stato persino arrestato vuoi finire raccontando questa cosa del passato? scusa non ti ho seguito perché ero distratto da questo simolo vivente che non sa che cazzo dice ma come non fanno ridere e mi cita dei comici americani cazzo citami degli italiani porca vacca mi hai dicendo Lenny Bruce però negli anni 70 Lenny Bruce e Ricky Gervais a te credo vabbè scusa no mi sembra chiedevi l'aneddoto di quando sei stato da agitatore ti sei definito agitatore di quando ti è successo di essere stato arrestato questa è una cosa che mi ha colpito io avevo 23 anni ero ma ero una persona timidissima in realtà semplicemente non rifiutavo il servizio militare ho fatto richiesta per domanda civile perché allora non era come oggi cioè il servizio civile dovevi chiedere di poterlo fare e ti davano il permesso di farlo oppure se te lo rifiutavano andavi a fare militare e quindi io avevo avuto questa negazione e ovviamente non è motivata perché ogni tot dovevano rifiutare perché se no la gente non andava a fare militare e per cui in pratica poi nella c'era anche questa associazione di antimilitaristi c'era Mau Valpiana che conosco ancora adesso perché ti sto parlando dell'83 perché sono passati molti anni e ancora adesso lui è molto impegnato nelle questioni pacifiste semplicemente si decise di fare una manifestazione a Roma cioè anziché andare alla polizia a consegnarsi e andare così nel carcere militare passando la cosa sotto silenzio come sempre era stato fatto si decise di fare una manifestazione ma decisero loro nel senso che io non conoscevo nessuno ero proprio andavo a Bologna all'università che poi non ho finito e insomma aderi a questa cosa ci fu il supporto devo dire dei radicali allora che mettevano anche i avvocati che gratuitamente si occupavano di questa cosa e mi ricordo che ci fu questa manifestazione a Roma in cui poi noi ufficialmente ci consegnavamo eravamo in tre e ufficialmente ci consegnavamo alla polizia dicendo che rifiutavamo il servizio militare la cosa divertente che mi ricordo è che mi presero a mano due poliziotti che facevano il poliziotto buono è quello cattivo e uno stringeva le manette e l'altro diceva ma no ma questo è uno figo lui è un anarchico devi trattarlo bene l'altro diceva no questo è uno stronzo e insomma stringeva le manette e quello diciamo che faceva la parte del poliziotto buono no del cattivo a un certo punto mi dici dici dove è nascosto Tony Negri perché era il periodo in cui Tony Negri era in Francia andavano un po' astracico chiunque venisse fermato e io gli ho detto che sappia dove Tony Negri fantastico che vita che vita che vita la tua Natalino senti no allora ci salutiamo purtroppo vorremmo andare fino alle 16 ma dobbiamo dobbiamo fermarci va bene magari una volta organizziamo una direttona una direttona più consistente adesso dobbiamo anche lasciare lo spazio diciamo della diretta grazie davvero a Natalino Balasso andate a vederlo a teatro che appunto così si sgomberiamo un po' dall'immaginario televisivo che è rimasto dentro anche molti di noi grazie mille a Davide Turrini che fa sempre delle ottime interviste delle ottime inchieste pop per FQ Millennium e noi ci vediamo al prossimo Millennium Live grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti